La capolista Gia Virtus fa su al derby isolano contro il Gela e resta al comando del girone I del campionato di 3D. Allo stadio Paresti la compagine giallorossa del tecnico Raffaele infligge Biancazzurri la prima sconfitta della stagione con un secco 2-0 giunto al termine di una gara interpretata alla perfezione dai barcelonesi e che ha visto il Gela mordersi le mani per le tante occasioni create e non sfruttate, soprattutto nel primo tempo. Alla fine l'Ige ha dimostrato di essere una squadra cinica e spietata sotto porta che ha saputo capitalizzare al massimo le poche occasioni avute tra i piedi. Gelesi che al contrario hanno oltremodo sprecato sotto porta raccogliendo alla fine solo le briciole rispetto alla gran mole di gioco prodotta nella metà campo avversaria. Davvero un peccato per i padroni di casa che non hanno così potuto vestigiare con un successo il ritorno nel proprio stadio dopo i lavori di manutenzione che hanno interessato il manto erboso del Presti. La cronaca partenza bruciante dei padroni di casa che già dopo tre giri d'orologio si rendono pericolosi con Kosovan che per poco non la mette dentro di destro. Al nono Nassi sul cross di Campanaro colpisce di testa miracolo dal portiere Inferrera che manda la palla in angolo. All'undicesimo attraversa ancora nel numero 9 Gelesi che colpisce di testa sul cross di Chidichimo. E' un Gela aggressivo che tenta più riprese la via del gol con grande aggressività. Al quindicesimo ammonito Kosovan per gioco pericoloso ammunizione che peserà alla fine del match. Al trentaseiesimo Evola dai 25 metri prova un tiro pericoloso che venisce di poco fuori dalla porta dei barcelonesi. Al quarantaduesimo clamorosa azione del Gela con Montalbano che colpisce di testa sul cross di Campanaro ma il pallone finisce di poco alto sopra la traversa. L'Igea passa al quarantatresimo con Caputa che lascia di stucco un po' tutti. Un tiro, un gol. La prima frazione del match si chiude con gli Gianni in vantaggio di una rete. Nella ripresa la manovra del Gela non è più convincente come nel primo tempo. Al quarto è infatti l'Igea Virtus ad essere pericolosa con Longo. Parata providenziale di Seitta. Al decimo ci prova Montalbano sul cross di Evola, tiro però debole e facile preda del portiere ospite. Infantino allora butta nella mischia Alma ma sostanzialmente il suo ingresso non cambierà le sorti del match. Il raddoppio degli ospiti arriva al ventiquattresimo con Desi che punisce in contropiede la retroguardia giorese. Due a zero e partita in salita per Bonafini e compagni. Salita che diventa ancora più impervia al ventinovesimo con l'ingiusta espulsione di Kosovan che rimedia un doppio giallo per un fallo in realtà commesso da Evola. Inutili le proteste del Gela che rimane privo di uno dei suoi uomini. La gara a quel punto scivola via con il Gela che accusa il colpo ma che tenta comunque con orgoglio di trovare la via del gol con Bonafini ma la difesa del Gela è sempre attenta. Termina così con gli ospiti che tornano a casa con il bottino pieno e tra gli applausi dei suoi oltre 200 sostenitori giunti a Gela e i palloni di casa usciti comunque tra gli elogi del proprio pubblico.